Bene, in questo problema dobbiamo ricalcolare il calore specifico del metallo, cioè dello stagno, nel caso nostro, però quello molare. Che significa? Significa che invece di rapportare la quantità di calore ad un grammo o a un chilogrammo, quindi a una certa massa unitaria, lo dobbiamo rapportare ad un numero di atomi, quindi ad una mole di atomi. Quindi invece di dividere per la massa del cubo di metallo, divideremo per il numero di atomi espressi in moli di quel cubo di metallo. Ci servono chiaramente gli stessi dati che abbiamo già ricavato, la quantità di calore ceduta dal blocco di metallo, quindi un calore negativo, che era di 2092 J, ricavata nel primo problema. Il numero degli atomi di stagno, ricavati nel terzo problema, che erano quasi un numero di Avogadro, cioè erano 0,956 moli. E infine l'abbassamento di temperatura del cubo, che era, che passava da 100 gradi a 22 e quindi abbiamo una variazione di temperatura delta T di meno 78. Quindi non dobbiamo fare altro che prendere il calore complessivo nel meno 2092, per avere questo calore specifico molare. prendiamo 2.092 e lo dividiamo per il numero di atomi, che è 0,956. Mettiamo anche l'unità di misura, queste sono mol, e per l'abbassamento di temperatura di meno 78 Celsius. o Kelvin, che sono uguali come variazioni. Il risultato di questo calcolo, il risultato di questo calcolo è di 28,0 qualcosa, quindi mettiamo 28,0 J al mole e al grado Celsius e adesso andiamo a confrontare anche il problema, diciamo finito qui, però nella tabella dei calori specifici vediamo che per lo stagno il valore atteso è di 26,7. Quindi, innanzitutto, andiamo a vedere come abbiamo calcolato questo 26,7, quindi quasi 27, non molto diverso dal valore trovato da noi, come l'abbiamo ricavato a partire dal calore specifico, quello per chilogrammo. Allora, innanzitutto, prendiamo il calore specifico per chilogrammo, che sono 225 J al chilogrammo e al grado, e lo dividiamo per mille in questa maniera troviamo, troviamo grammi al chilogrammo e ce lo troviamo in J al grammo, che saranno 0,225 grammo, qui abbiamo messo Kelvin e rimettiamo Kelvin e poi, se questo è per un grammo, dobbiamo moltiplicarlo per la massa atomica dell'elemento, quindi, per quanto pesa, una mole, anzi, di quel elemento, quindi, questo è un grammo, ma una mole di stagno, siccome la massa atomica allo stagno è 118,71, possiamo dire che questi sono i grammi, la massa in grammi, che corrisponde a una mole. Quindi, dobbiamo fare questo, 0,225 J al grammo e al Kelvin, per 118,71 grammi alla mole, e il risultato, semplifichiamo i grammi e i grammi, il risultato saranno appunto i 26,7 J alla mole e al Kelvin che stanno scritti nella tabella. Ora, notiamo un'altra cosa, che facendo lo stesso calcolo per tutti i metalli, per il rame, per l'oro, per il mercurio, per il nichel, eccetera, il ferro, ci sono anche quelli che abbiamo utilizzato nel nostro esperimento, l'alluminio, quello che otteniamo sono dei valori più o meno uguali, cioè più o meno simili, vicini, tutti compresi intorno a 24, 25, qualche piccola oscillazione, nonostante che i calori specifici al chilogrammo siano molto diversi tra loro, invece. Non sono per niente vicini, qui si oscilla da 128 fino a un massimo di 879, quindi i valori variano molto di più. Che succede? Succede quello che abbiamo detto fin dall'inizio in questo esperimento, cioè che il calore è trasferito dagli atomi e quindi un blocco che contiene più atomi, cioè più moli di atomi, è in grado di trasferire all'acqua una quantità maggiore di energia termica, quindi di calore. Quindi quando possiamo, approssimativamente, il fatto appunto che questi valori siano vicini tra loro, ci permette di accertare il fatto che a parità di temperatura, cioè 100 gradi, quando tiriamo fuori un metallo dall'acqua bollente, tutti i suoi atomi si trovano a 100 gradi e hanno ciascuno una certa quantità di energia, diciamo di energia termica, ogni atomo ha una certa quantità di energia termica e può cedere questa energia termica all'acqua e chiaramente più atomi ci sono e più energia termica otteniamo. Ma allora perché questi valori sono uguali? Semplicemente perché questi valori sono appunto i valori specifici per un numero uguale di atomi, cioè esattamente per una mole, quindi questi metalli hanno una capacità o una necessità di acquisire energia termica per passare, per aumentare la temperatura di un grado che è più o meno uguale per tutti questi metalli, cioè ogni atomo per aumentare di un grado o ogni mole di atomi, un numero di atomi pare una mole, per aumentare di un grado la sua temperatura ha bisogno più o meno della stessa energia che uscilla tra 27 e 24 Joule all'amore.